bene 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 auguri augurissimi augurissimi allora questa è troppo bassa per me questa asta allora io vorrei cominciare scusate raga scusate siamo in diretta allora posso alzarlo no ma va bene così mi da una certa goffaggine allora io vorrei cominciare facendo un annuncio una questione per me molto importante io voglio far sentire la mia voce affinché tutti possano condividere quello che sto per dire la musica trap è una merda allora io ho fatto di tutto per apprezzare la trap ho ascoltato una serie di playlist trap tante ho partecipato a un podcast che aveva come obiettivo quello di farmi apprezzare la trap sì ma mi fa schifo attenzione 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 io so che è una musica che nasce per esprimere disagio ma signori chi non è un disagiato nel mondo dell'arte io adesso non voglio fare la morale però sapete chi era un grande disagiato william shakespeare c'è william shakespeare prima di entrare nella compagnia del re e di diventare ricco era povero spesso malato ha fatto la peste viveva in condizioni igieniche estreme e infatti vi ricordate la scena di romeo e giulietta in cui cagano in un secchio lo suotano per strada no perché non l'ha mai scritta nonostante fosse una sua pratica quotidiana certamente per lui molto sgradevole ha detto no questa non la includo in nessuna delle mie opere i trapper invece ci godono nell'illustrarci tutta la brochure del loro disagio la violenza come unico mezzo di risoluzione delle problematiche quotidiane il costante desiderio di fottersi la madre degli altri lo smascellamento delle droghe continuo ma poi se voi adesso ci fate caso e ascoltate un pezzo trap raga si sente proprio una discrepanza tra strofa e ritornello pazzesca cioè le strofe sono piene delle cose più trucci che si possano dire ti squarto col coltello tua sorella mi succhia l'uccello tiro una riga di bamba con mio fratello ti sparo nel ferro ti esplodo il cervello e poi improvvisamente nel ritornello la sensibilità e sono fragile per vivere nel mondo ti sembra facile tu che non mi ami in fondo e questo cuore batte forte quando sei con me siamo soli contro il mondo siamo io e te siamo io e te e poi dopo ritorna la strofa dove ero rimasto ti sbatto il cazzo nell'occhio ti devasto date affanculo c'è 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 tuttavia una cosa che io invidio dei trapper e cioè il fatto che loro scelgono di chiamarsi con dei nomi senza senso senza sentirsi in dovere poi di dare delle spiegazioni al riguardo cioè young signorino che ho detto un applauso un applauso chi è marco piccolo rifaccio young signorino massimo pericolo ernia ercomi ercomi perché devo fare questa fatica per dire ercomi dammi un motivo cioè devo prendere molto fiato prima ercomi che se no non ci arrivo ercomi non ci arrivo non ci arrivo io in un eventuale futuro in cui divento un trapper io so già come mi chiamerei io mi chiamerei parallelepipedo e molto altro che il contrario di sfera e basta devo dire io tempo passato per ascoltare la trap per comprenderla è stato il periodo della quarantena dove avevo molto tempo da buttare però non è stata quella l'unica cosa che ho fatto cioè io in quarantena ho passato molto tempo a dispiacermi per Batman perché Batman è il mio supereroe preferito e adesso io quando penso a Batman dopo il covid non riesco a pensare a Batman senza pensare al coronavirus perché hanno la stessa origine nascono entrambi dall'incontro tra un uomo e un pipistrello e infatti il covid potrebbe essere l'antagonista perfetto per un film di Batman potrebbe essere un film avvincente già dalla prima scena Alfred prepara la mia Batmobile Alfred Alfred Batman e covid eh sì ma comicità cattiva comicità cattiva allora io una volta per concludere credo di aver tagliato il cazzo ad un pipistrello è successo ero in Umbria lui è da mezz'ora che fa ma che cazzo è è tutto vero ero in Umbria in questa villa sperduta nella natura e a un certo punto mentre parlo con gli amici vediamo dall'alto cadere una pallina nera che fa tipo ci avviciniamo per capire cos'è e vediamo che è una palla che sembra fatta tipo da fazzoletti neri quadrati d'aperitivo non capiamo che cos'è e riprendiamo a parlare poi però risentiamo di nuovo ci avviciniamo e scopriamo praticamente che c'è un pipistrellino nero raggomitolato su se stesso che sta mordendo qualcosa prendiamo un bastoncino lo spostiamo e scopriamo che sotto questo pipistrello c'è un altro pipistrello e che sono attaccati come da una specie di filetto di carne allora siamo lì con questo amico che fa il veterinario cioè sua madre fa la veterinaria quindi lui si spacciava come veterinario che li prende con due fazzoletti neri non neri per non confondersi cerca di separarli ma rimangono attaccati da questo filetto di carne a quel punto il veterinario dato il lungo percorso di studi fatto da sua madre esprime la diagnosi si tratta di due pipistrelli gemelli sia mesi una cosa rarissima a quel punto a me a me vengono consegnate delle forbici e come un sindaco che inaugura la nuova piscina comunale del paese faccio tac e i due pipistrelli volano via apparentemente felici ma io avevo dei dubbi giorno dopo vado su google immagini e scrivo accoppiamento pipistrelli tu non puoi capire non puoi capire certo che se fosse così quel pipistrello avrebbe avuto un ottimo motivo per vendicarsi di tutta la razza umana e io spesso me lo sono immaginato che lui sia riuscito a recuperare i suoi genitali che sia fuggito nel posto più lontano dall'Umbria la Cina one per architettare il suo piano diabolico aspettare per anni che all'interno del suo pene amputato e putrefatto si sviluppasse un virus letale entrare nel primo ristorante appendersi al soffitto e al momento giusto lasciar cadere il proprio pisello infetto all'interno della zuppa del primo cliente ignaro sfregandosi le zampe me la pagheranno me la pagheranno tutti parla così perché gli ho tagliato il cazzo grazie a tutti 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 grazie a tutti